Compariranno domani alle 11.30 davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sulmona, Alessandra De Marco, madre e figlia di 49 e 19 anni e il giovane 26enne di Frosinone, tratti in arresto nel pomeriggio di ieri dei carabinieri della Compagnia di Sulmona per rapina aggravata, violazione di domicilio e spaccio. Le indagini dei militari vanno avanti per stabilire le singole responsabilità, ma andiamo con ordine. Nella mattinata di ieri tramite il numero di emergenza del 112, la madre di un ragazzo minorenne ha chiesto l'intervento di una pattuglia in quanto un giovane era entrato forzatamente all'interno della loro abitazione e dopo aver tentato ristrangolare il figlio che era ancora a letto a dormire si era impossessato del telefono cellulare del minore per una fornitura di droga non pagata ed era scappato. I militari dell'aliquota radiomobile della stazione carabinieri di Sulmona doveva aver appreso informazioni utili per identificare responsabile non conosciuto compiutamente da minore a conclusione delle ricerche che sono andate avanti per tutta la mattinata lo hanno rintracciato in una strada di Sulmona mentre scendeva dalla sua automobile in compagnia della fidanzata 19enne sotto casa di quest'ultima in via 25 aprile. Do aver recuperato il telefono cellulare asportato successivamente restituito l'avente diritto gli operanti hanno eseguito una perquisizione presso il domicilio della ragazza dove era presente la madre hanno rinvenuto sul piano della cucina un pezzo di hashish del peso di circa 40 grammi e un bilancino di precisione. Pertanto al termine di tutti gli accertamenti militari della stazione carabinieri di Sulmona hanno dichiarato in arresto il 26enne per i reati di violazione di domicilio e di rapina aggravata e lo hanno associato alla casa di reclusione di Sulmona mentre le due donne sono state arrestate per la detenzione di stupefacenti e fine dispaccio sottoposte gli arresti domiciliari a disposizione della procura della repubblica. Sono altresi in corso le verifiche per stabilire il coinvolgimento della 19enne nella rapina e le responsabilità del 26enne per lo spaccio di stupefacenti che ha originato la spedizione in casa del minore.